Buongiorno e benvenuti in Leggendas Bug. Oggi voglio parlarvi di come risolvere il problema del NAT su PS4 e come avere delle impostazioni avanzate per quanto riguarda i DNS e MTU che vi permetteranno di avere una connessione migliore e più stabile. Andiamo subito a vedere come impostare il NAT tramite un semplice tutorial. Dunque, andiamo su Pages. Come vedete, una volta che avrete acceso la vostra PlayStation 4 dovrete andare sotto Impostazioni, Rete, Imposta, Connessione, Internet. Cliccare Usa Wi-Fi, come impostazione quella personalizzata, scegliere il Wi-Fi a cui collegarsi. Come impostazione dell'indirizzo IP, scegliere PPOE. Per quanto riguarda gli utenti Alicia DSL basterà mettere Alicia DSL come nome utente e come password. Come impostazioni del DNS potete scegliere se mettere automatico o manuale. Io ho messo manuale mettendo i Google DNS che sono veramente veloci. Quindi come primario 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Per quanto riguarda le impostazioni dell'MTU ho messo manuale 1500 che era quello consigliato dopo gli attacchi ai server oppure 1492. Come server proxy non usare e poi premere la voce finale verifica connessione. Ovviamente vi verrà fuori un errore perché manca la connessione al PlayStation Network. Quindi dovrete fare tornare indietro premendo cerchio. Andare su PlayStation Network e gestisci account. Adesso c'è questa voce unica con tutte e due le voci. Premere su accedi. Quindi fare login con mail e password. Tornare indietro. Tornare su rete. Fare verifica connessione di rete. Una volta fatto questo potrete verificare la vostra connessione di download e upload. Ed inoltre verificare che il tipo di NAT dovrebbe essere diventato 1. Predefinito di solito è sul 2. Quindi è moderato. Mentre con 1 non dovreste avere più problemi. Quando ad esempio fate le chat party. In questo modo quando vi collegate ci sono più persone. O anche una sola persona può capitare che voi parlate ma l'altro non vi sente. E viceversa. Quindi parlate e voi non sentite quello che sta dicendo l'altro. Tramite il NAT1 non ci sarà più questo problema. E l'altra cosa che vi consiglio. Vi lascerò comunque il link in descrizione. Nel caso ovviamente non avete un telecom. Di chiedere o il PPOE o altrimenti di andare a scegliere le impostazioni che vi consiglia questo sito fifaplaza.net Da cui ho scoperto come settare il NAT su 1. Che nel mio caso è stato semplicissimo come vi ho detto per il fatto di impostare il PPOE. Altrimenti dovrete fare dei settaggi particolari tramite il porting sul modem. Il porting del map. Quindi vi lascerò comunque il link in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per l'attenzione. E al prossimo video. Iscrivetevi in tanti.